L'ammazz...sì, rimprigionare! Ehi! Che poi ti fanno help me, aiutami! E poi ti vogliono ammazzare. Non è facile perchè comunque son bastardi, eh? Ehi! Help me! Eh, ci l'ho fatta. E' andata bene, si perchè di solito ci metto 45 milioni di anni. E adesso vi spiego i potenziamenti. Sì, sì, adesso li spiego io. Allora, qua c'è macchina e ci sono i potenziamenti, come potete vedere. Ok? Funzioni basi, funzioni bonus, funzioni speciali. Prestazioni basi, per esempio questo 2000, questo 4000, questo 6000. Per esempio, adesso facciamo accelera, io faccio prima questo. E aumentate di livello. Poi ci sono le funzioni bonus, che sono pressione, respinge i fantasmi, rallenta il movimento i fantasmi, li vedi di più, diciamo, li paralizzi. E li cerca automaticamente. Ecco, senza che li cercate voi con la cosa. E le spezie sigille delle funzioni speciali, che poi si vedrà quando dobbiamo fare le funzioni speciali. E poi possiamo anche cambiare i film, vedete? Poi troveremo quelli più forti, eccetera eccetera. Vabbè, cassetta bianca. Ah già, adesso dobbiamo fare una foto. Qua? Sì, sì. E adesso mi mostra cosa serve, dov'è che mi serve, ecco. Dovete trovare quella foto, con l'immagine lì, insomma. Che si troverà l'oggetto che vi serve. Dove si troverà? Sì, sì. Tanto adesso do, tornai tutti indietro, quindi. Sì, scusate, eh. Non trovo più la porta. Eh, dove cazzo? Ah, di qua, è vero. Ok, scappaaaaaa. Sì. Oh, c'è, ecco. Come potete vedere, non è che vi danno, fanno pochi danni. Ok, adesso qua non ci doveva essere il tipo. No, dopo allora, via. Gira! Allora, insomma, è qua. Questo. No, qui. Oh, ecco. Adesso vediamo se, qua mi diceva di trovare. Adesso vado a salvare, ragazzi, scusatemi. Niente. Boh, no, perché ogni tanto te li rilasciano, quindi. Allora, a salvare dov'era di qua. Vado a salvare. Eh, vabbè. Tanto se dovrei trovare forse una pietra spirito lì. Non una pietra spirito, mi ricordo, se è una pietra spirito o un altro tipo di pietra, vediamo se c'è. Eh, infatti, vedete. Ah no, punti di ricerca. Vaffanculo. Vabbè, tanto salvo. Niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ok, andiamo avanti. Sì. Oh. Diciamo che è sempre meglio andare a prendere tutti gli appunti, tutti gli oggetti. Ok Andiamo a mettere Il vetro Il vetro spezzato Ovviamente con i colpi critici Che fate? E guadagnate più punti Eccolo l'altizio Ciao Allora l'uomo è nel ripostiglio Aspetta Non dovrebbe avere niente vero? No non si sa mai perché ogni tanto appaiono gli oggetti Niente Boh basta Ah era per sapere Mi ricordavo che non c'era niente Però non si sa mai Eh ma mi incastro sempre Ecco lo sapevo Ah dovevo fargli la foto Ah io pensavo che dovevo ammazzarlo Fa un cuco Ecco vedete Queste cose non devo farle Devo cercare di prenderli tutti Ecco la prima volta mi sono caccata addosso qua Lo ammetto Si e Revy si è caccata addosso la prima volta Allora vuoi mettere eh? Si Indovinate cosa troviamo La chiave Ecco ma Ecco ma Orca è meglio che mi levo Aha Aha un cazzo Dove cazzo sei? Dov'è? Allora Por 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 Dai che ce la fai Dai Dai tizio Dai Oh eccolo qua Oh cazzo Ciao eh Così ormai è crepato oh 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 spostes figlio di troia ciao ahhh oh pfff wow ecco questo qua ecco piedra spirito no sbagliato allora oggetti faccio questa no se lo aspettiamo infatti andiamo a aprire la famosa porta sopra magari se voglia yeah vai tipa dai per ora mi sta andando bene non gufiamo non mi hanno ancora compito a parte una volta dai di solito mi stuprano cazzo attattattattattac ecco qua vanno lì c'era qualcos'altro ah si qua qua aspettate eh no qua dall'altra parte ho sbagliato si va bene però mi serve che c'era qualcosa qua ah ecco ecco specchio di pietra adesso vediamo se c'è qualcosa no io sono arrivata da qua no infatti qua è dove salviamo salviamo dopo però tanto dico io quelli che servono qua non c'è niente basta va bene allora lì siamo arrivati di qua allora andiamo di qua allora qua c'è un qualcosa esatto 37 perfetto oh adesso questa qua ci parla scusa allora qua si va giù adesso vediamo se c'è qualcosa prima qua eh infatti boh perché prima non me ne ero accorta che qua c'erano delle scale and adio Grazie.